Ciao, io sono Marco e sono professore di Italiano Online. Oggi parleremo di tre parole che riguardano lo stesso ambito, ma hanno significati differenti. Queste tre parole sono lezione, aula e classe. Lezione è quello che stiamo facendo adesso. Una lezione dove un insegnante parla, spiega, illustra e un alunno intende, comprende. Aula in italiano è differente. È lo spazio fisico dove la lezione avviene. Aula sono quattro pareti. In una scuola sono presenti molte aule. Dentro l'aula facciamo lezione. Classe sono le persone. Le persone che partecipano a una lezione dentro un'aula. Classe è il gruppo. È il gruppo di studenti. Lezione. Aula. Classe. Adesso potete entrare in contatto con la scuola per fare lezione con noi.